Abbiamo il piacere di avere con noi Silvana Grasso, che in questo momento è l'assessore alla cultura del comune di Catania, ma Silvana Grasso per gli addetti ai lavori è una grande scrittrice, tantissimi suoi romanzi, non ve li sto neanche a ricordare, basterebbe per tutti l'albero di Giuda, l'ultimo Sette Uomini e così tantissimi altri, ma è inutile, oggi ce l'abbiamo nella veste per un assessore donna forse indicato, di assessore alla cultura del comune di Catania. Assessore Grasso, cosa significa essere assessore alla cultura in una città come Catania? Come mai dal mondo della penna dove si comunicano i sentimenti si passa al mondo della politica dove bisogna invece comunicare le realtà? Intanto bacio a casa per tutti, chi mi conosce sa che apprezzo moltissimo l'umiltà delle persone di buonsenso, gli apprezzo sempre di meno la spocchia di certa politica o comunque di certa sicumera intellettuale che poi nulla fa a beneficio della città. Cosa fa l'assessore Grasso per la città di Catania? Benissimo, io pensavo di venire, non so, a leggere carte o a potenziare, no, invece l'assessore Grasso, ecco, questo è uno strumento fondamentale del mio assessorato, perché l'assessore Grasso quando si è reso conto che la ricchezza che abbiamo nella città di Catania come beni culturali viene tenuta blindata in maniera ottusa, ottusa, ha cominciato a dotarsi di questo serracco, non so come si chiama in italiano, questa piccola sega, perché tutto quello che ostinatamente, barbaramente impedisce ricchezza via via venga fatto saltare. Queste sono pillole. In tre mesi di assessorato mi sono imbottita di pillole perché la mia colite spastica è alle stelle. Io sono un assessore sanguigno, non mi interessa la plomba assessoriale, lo lascio ai baccalà, lo lascio a quella politica che cerca il consenso del voto, io cerco il consenso dei cittadini che devono vivere bene dei loro beni culturali per uscire fuori dall'aria fritta. Diciamo, oggi a Castello Ursino ho fatto una cosa storica, ho aperto i forzieri, ho aperto i magazzini, i depositi del Castello per far vedere come una città che potrebbe vivere solo di museo, tiene sepolti vivi a marcire i suoi beni culturali. È una crociata la mia, in dieci mesi bisogna fare il museo perché ci sono tutti gli elementi per farlo e non mi fermerò contro l'ottusità di nessuno. Sappiano i cittadini in questa vicenda decidere qual è la buona politica, quella che dice sì al museo perché il museo posterà almeno 100 posti di lavoro e la cattiva politica che dicesse di no e in quel caso con questo non solo taglio Lucchetti ma taglierò pure test. Assessore ma come mai c'è, noi sappiamo tranquillissimamente che per quanto riguarda la cultura è una di quelle realtà che tirano, che chiamano turismo, come mai c'è questa ottusità e perché c'è? Sicuramente cerco di mantenere la calma, è molto difficile. Si può arrabbiare tranquillamente. Per un appassionare come me. Sicuramente questo nasce in maniera o se le dire quasi secolare perché la vicenda dura da quasi un secolo. Da chi considera la città un suo feudo, una sua campagna, una sua proprietà, niente di più sbagliato. La città e dei cittadini, la città di Catania con le sue bellezze non è nemmeno dei casenesi o sarei dire, è del mondo che c'è l'invidia. Oggi aprendo quei depositi tutta la stampa, le televisioni hanno visto testine del quarto secolo avanti Cristo, del terzo secolo dopo Cristo, del quarto dopo Cristo coperte con la busta del pane semplicemente per evitare perché quello che possono fare fanno i dipendenti, la direttrice che è molto brava. Vengono lasciate lì a marcire di umido, di polvere, di abbandono senza esporli, quando esporli, esporli costa niente, costa meno di centomila euro. E allora sappiano tutti i cittadini siciliani e nonno che la cosa non si ferma qua, che io farò su questo la crociata della sana politica e della cattiva politica e sappiano anche che chi mi ha voluto l'assessore ai beni culturali ha fatto un'operazione straordinaria perché ha capito che una come me che giudica solo sul sacro santo destino della cultura e dell'arte, che per me è sacra veramente, non si lascerà fermare da nessuno. I beni culturali oltre a essere civiltà sono soldi, denaro, facciamo e le mendichiamo, non c'è soldi, la città è alla miseria, come? E teniamo chiusi i beni culturali e non facciamo il museo che porterebbe all'anno milioni, milioni di ospiti a visitarci? E quale scelleratessa stiamo facendo per la cultura, per l'educazione civica? No, i cittadini sappiano che il museo in 13 mesi deve aprire e se non si aprisse il museo io farò ogni giorno la cronaca del buon politico e del cattivo politico, la città di Catania deve avere ricchezza dal museo e non piangere per il pane che non si può comprare perché il museo se solo oggi fossimo in grado di aprirlo ma lo siamo, lo siamo, la tragedia è questa, mancano qualche centomila euro, se noi apriamo il museo solo dell'indotto nei primi mesi daremmo da mangiare a cento famiglie, cento famiglie e mi gioco l'onore su questo, mi gioco l'onore, cento famiglie devono avere pane, i loro figli non devono emigrare, noi dobbiamo essere centro di accoglienza culturale e i ragazzi di tutto il mondo venire a studiare a Catania, il sud sia faro, trascini il nord, non viceversa, insegniamo il rispetto per la Sicilia, ma quando la città di Catania non riesce a farsi rispettare perché dopo una vita non ha un museo da offrire, non ci lamentiamo poi che ci trattano come sud. Io ringrazio l'assessore Grasso per essere stata così gentilissima a venire qua da noi e un'attestazione di stima nei riguardi della nostra emittente, fino a poco fa aveva degli impegni subito dopo avrà altri impegni, ma la ringrazio principalmente perché credo così come ho percepito io viate percepito anche voi, che è l'anima, è quell'anima che si trasmette nelle cose e quando c'è questo processo di osmosi fra noi e le cose che facciamo, certamente qualche cosa verrà fuori e credo che questo qualcosa che verrà fuori col nostro supporto, col supporto di tutti noi, sia un bene pubblico. Direttore, me la consente una battuta? Prego, prego. Ha ragione lei quando dice adesso andrò a ricevere il Parlamento Sassone, ma niente, né il Parlamento Sassone, né il Presidente degli Stati Uniti, nessuna cosa al mondo. Per me, Silvana Grasso, nata a Macchia di Giarre, figlia dell'Etna e più importante della Sicilia, dei Catanesi che devono avere ricchezza, perché la ricchezza ce l'hanno nascosta in gasa loro nei depositi di Castello Ursino che oggi ho smanettato e viva questo serracco che lo userò sempre di più. Grazie. 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 Grazie a tutti.